Convocata per lunedì 19 ottobre dalle sigle sindacali dell'Asla Salerno, un'assemblea pubblica presso i locali occupati della Direzione Generale dell'Asla Salerno per discutere sul futuro della sanità in campagna e sulla garanzia dei servizi sanitari nella nostra regione. Il dibattito verterà sui problemi che da anni affliggono i cittadini campani, i quali pagano i loro diritti alla salute sia in termini economici che di esito, più dei cittadini di altre regioni italiane, in evidenza super ticket sulle prestazioni sanitarie, le prestazioni pagate per intero dal mese di settembre, i viaggi della salute, zero assunzioni in campagna, perdita di 8.000 posti di lavoro e migrazione di medici e infermieri in altre regioni italiane e all'estero. Le organizzazioni sindacali, gli operatori sanitari e i cittadini pretendono risposte immediate dall'attuale manager sanitario. Senza soluzioni adeguate si proseguirà con l'occupazione e con mobilitazioni, come già annunciato dalle sigle sindacali, in un comunicato. Grazie. Grazie.